ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare l carnitina acqua viva srl ultimo aggiornamento 7 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti tabella nutrizionale immagine prodotto a cosa serve l carnitina è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali è commercializzato in italia dall'azienda acqua viva srl informazioni commerciali titolare acqua viva srl concessionario acqua viva srl categoria di appartenenza integratori di vitamine e minerali forma farmaceutica fiale flaconcini fialoi confezioni l carnitina 1 fiala 25 ml l carnitina 20 fiale indicazioni stimolatore dell'utilizzo dei lipidi per la produzione di energia modalità d'uso si consiglia l'assunzione della quantità compresa tra due tacche corrispondente ad 1 grammo di carnitina descrizione e caratteristiche la carnitina è un aminoacido non essenziale presente soprattutto nelle cellule muscolari dove svolge l'importantissima attività di veicolare i grassi all'interno dei nitocondri cellulari dove vengono degradati e trasformati in energia utilizzabile per questa sua peculiarità la carnitina è considerata sia un brucia grassi che un risparmiatore di carboidrati avvertenze gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano in caso di uso prolungato oltre le 68 settimane è necessario il parere del medico il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale in gravidanza e al di sotto dei 14 anni non superare le dosi consigliate conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato non disperdere nell'ambiente allergeni gluten free ingredienti acqua depurata fruttosio l carnitina base acidificante acido citrico aroma arancia rossa conservante potassio assorbato tabella nutrizionale informazioni nutrizionali per 100 g1 fiala dose l carnitina 12 g 3 g 1 g corrispondente alla quantità compresa tra due tacche fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato